Sentiamoci di fronte a un tramonto e il fisico di quel tramonto ci darà una descrizione scientifica sulla base delle leggi della luminosità, dell'ottica, della rifrazione eccetera. Quando mi ha dato questo referto mi ha detto una cosa vera, ma non è tutta la verità del tramonto, punto a capo, perché il tramonto si accompagna anche a dei vissuti miei che la descrizione fisica del tramonto non mi riproducono, non solo questi miei vissuti, che non sono neanche tanto costanti questi vissuti, perché se sono insieme a te il tramonto ha un vissuto, se sono senza di te il tramonto ha un altro vissuto, cioè voglio dire la scienza ha tutti i diritti di fare le riduzioni che vuole, il problema è che non si stabilisca che le riduzioni scientifici che siano la verità e desauriscono il significato delle cose. Insomma, la scienza mi descrive dei fatti, non dei significati. E l'uomo è un animale in cerca di significati, punto a capo. E i fatti per noi sono interessanti in quanto significano, non in quanto sono solo fatti. Quello che le chiama emergenza è l'eccedenza del significato sul fatto. La scienza non mi darà mai un significato, per specialistica che possa essere. Anche quando mi descrive il DNA mi descriverà dei fatti, non dei significati. E l'uomo è alla ricerca di significati, punto. Punto. Grazie a tutti.